Che è una cosa pazzesca, ma va su di non so quanto. La metà può fare la polemica, hai giocato sempre per il gioco, ti danno una metà non buona, la prendi e poi fai ancora il mitico, va che gatto. Noi sono stati proprio bravi perché li hanno fermati in tutti i modi. Buongiorno! Sinistra! Vai, Michael! Il mio bambino! No! 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 Vai! 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 Dai! Dai! Di qua, di qua! Streno! Streno! Dai, dai! Dai, dai! Ho l'altro che la soppata! Streno! 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 Vai! Vai, Michael! Dai! Ti fai! Ti fai tanto proprio! Colte ragazzi! Ma sei imprecisa, ne? Ti vediamo tutte le giovani. Ma io stavo anche a casa. Mi rilassavo un po', ma poi ho detto, ma e tu? Hai lavorato fino adesso? Ho lavorato, sono scappata alle due. Vai ragazzi! Oddio! Oddio! Papi, attento alla palla! Davide! 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 Ad Town Sono proprio carini, i nostri bambini dell'Inzia, guarda... Uff! C'è un'altra cosa, non ci rilassavo... Ah! Qualcuno? Quals な C. Ah, è troppo... la fai, la fai, la fai, la fai, la fai, vai, 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 bravo, che bene questa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.